Eccoci, buonasera e ancora in ballo al Senato la questione di cosa sarà per l'Italia la posizione in politica internazionale. In realtà non è che ci sia suspense, si sta ancora ultimando la fila delle dichiarazioni di voto dopo l'intervento iniziale, la relazione e il dibattito e la replica di Giorgia Meloni in merito alle grandi questioni internazionali, soprattutto le due guerre e la Russia dopo la rielezione di Putin. Ovviamente si attendeva di misurare le distanze tra Meloni e Tagliani da una parte e Salvini dall'altra. Da un punto di vista personale non è stato possibile perché il leader della Lega ha disertato l'incontro del Senato, il dibattito al Senato non è stato presente, ma sia Meloni sia negli interventi, gli esponenti della maggioranza hanno parlato di un centrodestra assolutamente coeso sulle scelte internazionali come dimostrano le prese di posizione e le votazioni sia al Senato sia alla Camera. E comunque la linea ribadita è da Meloni e dalla parte dell'Ucraina, elezioni farsa in Russia, impossibile trattare con Putin, ma mai, come si dice nel gergo militare britannico, mai gli stivali dei soldati italiani sul terreno di guerra in Ucraina. Per quanto riguarda l'altra guerra è stata Hamas a iniziare e il non ricordarlo vuol dire spesso, soprattutto dare prova di antisemitismo, ma è altrettanto vero che la reazione di Israele è stata troppo dura e sanguinosa e comunque l'Italia è contraria, come l'Europa e gli Stati Uniti, a un'azione militare ora su Rafah. Il dibattito, ripeto, è in corso, riflette quelle che sono le posizioni delle varie forze politiche e c'è stato ovviamente uno scambio anche tra Governo e 5 Stelle sul tema della pace e delle ambiguità da una parte e dall'altra. Poi vedremo la situazione vera a cui ci si riferisce in questo nostro dibattito parlamentare perché le novità riguardano Putin che, mentre le sue forze armate in Ucraina tentano ancora di sfondare il fronte, ha fatto sapere indirettamente e informalmente che potrebbe essere a maggio a Pechino per un vertice con Xi Jinping, il numero uno della Cina, rafforzato Putin nel suo ruolo ovviamente dal risultato plebiscitario delle elezioni dei tre ultimi giorni della scorsa settimana. Mentre per quanto riguarda Gaza è in corso affari spenti, se vi va questo termine, al di fuori di ogni indiscrezione, un serrato dibattito a Doha, un confronto negoziale. Si dice che ci partecipi o ci parteciperà anche lo stesso Iaia Singwar, lo stratega dell'attacco del 7 ottobre, sicuramente c'è il numero uno del Mossad israeliano. Si parla di sei settimane di tregua, di 40 ostaggi che sarebbero liberati, di tanti prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, ma siamo al punto di prima e poco fa un esponente di Hamas ha detto ma guardate che Israele non vuole l'accordo, che in genere è l'antipasto della notizia e che c'è stato un altro fallimento delle trattative. Ma ci sono ovviamente tanti fatti italiani, ancora le convulsioni politiche per il centro-sinistra in Basilicata con speranza che spiega perché non si è candidato lui e ha parlato delle minacce perduranti dei Novax per l'ex ministro della Sanità con Conte Draghi. E poi anche c'è stata la condanna a quel minore che uccise Jojo, il giovane musicista di Napoli che era intervenuto nella notte a fine luglio per tentare di sedare una rissa e fu ucciso con un colpo di pistola. Vedremo anche tante altre cose, tra cui il lutto nel calcio perché non ce l'ha fatta. Dopo 48 ore è morto Jo Barone, il capo esecutivo della Fiorentina che si era sentito male proprio davanti ai suoi giocatori alla vigilia del match che non fu poi giocato con l'Atalanta a Bergamo. Questo e altro, un minuto, i titoli.